Secondo giorno di ritiro qui a Moena per la Fiorentina guidata da Vincenzo Montella. Quest'oggi la squadra è stata impegnata in un doppio allenamento. Stamattina esercizi atletici, scatti, ripetute. Invece questo pomeriggio completamente dedicato alla tecnica. Abbiamo visto una partitella, la squadra è stata devisa in tre gruppi con esercizi di torello e di tecnica. Ha parlato in conferenza stampa il direttore esecutivo della Fiorentina Baesi insieme a Vincenzo Guerrini e al sindaco di Moena e hanno presentato ufficialmente il ritiro qua in Val di Fassa. Domani ancora dopo appuntamento, mattina alle 10 e pomeriggio alle 5 e mezzo mentre parlerà il capitano della Fiorentina Manuel Pasqual intorno alle 4 e un quarto per presentare ancora il ritiro, la prima conferenza stampa di un giocatore viola qua su nel ritiro estivo. I tifosi sono aumentati rispetto alla giornata di ieri. Abbiamo visto un raddoppio delle presenze. Anche oggi i tifosi ad assistere all'Avinto erano circa 200. quindi sia Moena che la Fiorentina si aspettano un incremento delle presenze già da questo weekend. Ci sentiamo domani con le parole in diretta da Moena del capitano Manuel Pasqual.